Immaginiamo ora di voler aggiungere al programma la possibilità di importare delle immagini in formato bitmap. In realtà si tratterà di un pretesto per accennare alla gestione binaria dei file, quindi non implementeremo veramente in modo completo questa funzionalità. Ci accontenteremo di tentare di leggere l'IDER di un file PNG per poterlo riconoscere. Eventualmente poi si potrebbe procedere con l'elaborazione vera e propria. Dal nostro punto di vista invece questa elaborazione dell'immagine sarà semplicemente un conteggio dei byte che costituiscono il file PNG. Aggiungete allora al menu file la voce Importa PNG, Portable Network Graphics, e con un doppio clic sulla voce stessa accedete all'editor per l'evento click. La prima cosa da fare è definire un file stream, l'ho chiamato file binario, inizializzato a null. In pratica è il puntatore fisico al file da leggere o scrivere. Le operazioni di lettura e scrittura però non avverranno direttamente sul file stream, ma attraverso un mediatore, il binary reader. Ovviamente esiste anche un binary writer quando vorremmo scrivere sul file. Questo oggetto, il binary reader, realizza una lettura o scrittura bufferizzata. Conviene comunque definire un nostro buffer. L'ho dichiarato come un vettore di byte, di 1024 byte. Il motivo per cui non mi sono limitato semplicemente a leggere con un comando tipo read the byte, che oltretutto esiste, un singolo byte alla volta, è che avremmo qualche difficoltà se il contenuto, la codifica dei caratteri del file, manda in errore il comando, il metodo pick, char, che dovrebbe controllare se il file binario è terminato oppure no. Poi lo vediamo meglio. Sfrutto il selettore di file che avevamo usato qualche video lezione fa per far scegliere il file dell'immagine. L'operazione avviene sotto il controllo del costrutto try catch finally. Tentiamo quindi di aprire il file selezionato con il selettore standard. Il passo successivo consiste nel collegare allo stream appena creato un nuovo oggetto binary reader. Quindi l'oggetto file png è un binary reader per il file individuato dalla variabile file binario. Il nome che ho scelto per il binary reader non mi soddisfa. Non fa capire in effetti che si tratta di un binary reader. Approfittiamo allora di questa situazione per vedere come sia facile applicare uno degli strumenti di refactoring, cioè di ristrutturazione del codice, mantenendo però tutto sotto controllo. Non per intenderci come stenteremmo a fare se facessimo le classiche operazioni di ricerca e sostituzione dei nomi. È sufficiente fare clic con il pulsante destro sulla variabile, sulla quale vogliamo effettuare refactoring. Effettua refactoring, rinomina. Il nuovo nome che vogliamo dare alla variabile potrebbe essere file png reader. Ok. Ci viene presentato un'anteprima di tutte le righe che verranno modificate, sia in forma sintetica che in questa forma espansa. Questo strumento è molto utile perché veramente non si dimentica di scavare l'interno di ogni sezione del codice, senza correre quindi il rischio di quelle dimenticanze che si rivelano quasi sempre tragiche se l'operazione viene fatta a mano. Applico. Bene, ora mi piace decisamente di più. Possiamo riconoscere un file png dai primi suoi 8 byte, che fanno da header in testazione appunto. I primi 8 byte in decimale sono sempre questi e saranno quelli che ovviamente andremo a confrontare con i primi 8 byte letti dal file. Questo primo livello di try serve per catturare eventuali problemi all'apertura del file. Ma il fatto di essere riusciti ad aprirlo non toglie che potremmo avere problemi a leggere dei byte da esso. Ecco perché annido dentro questa prima struttura try un'altra struttura try. Potremmo infatti avere un altro problema qui. Naturalmente questa è solo una mia scelta progettuale. In realtà ho voluto dimostrare che esiste anche questa possibilità. Ma avremmo anche potuto utilizzare un solo try gestendo poi tutti i test sulle diverse eccezioni che potevano essere sollevate. Con altrettanti blocchi catch. Per leggere gli 8 caratteri preparo un array capace di ospitare appunto quel numero di byte. Questo vettore deve essere indicato come primo parametro per il metodo read del binary reader. Il secondo parametro deve essere la posizione a partire dalla quale i caratteri letti devono essere memorizzati in quel vettore. Il terzo parametro è il numero di byte che si tenta di leggere dal file collegato al binary reader. L'effettivo numero di byte, perché potrebbero anche essere di meno se non ve ne fossero a sufficienza, letti è restituito come valore dal metodo read. Questo valore noi lo memorizziamo nella variabile esplicativa come nome num caratteri letti. In questo modo, io non l'ho fatto per brevità, avremmo potuto controllare qua prima di continuare se il numero effettivamente letto di caratteri è 8. In quel caso, e solo in quel caso, avrebbe avuto senso continuare. Altrimenti avremmo potuto terminare il tutto con un messaggio di errore. Il blocco di codice evidenziato provvede invece al confronto tra le due sequenze di 8 byte. Il boolean riconosciuto viene messo a true. Se rimarrà tale, vuol dire che tutti i byte avranno superato il controllo. Quest'ultimo viene fatto con un semplice ciclo for, che partendo dalla prima posizione utile del vettore, e per 8 caratteri, confronta il contenuto alla posizione I del primo vettore, quello in cui abbiamo memorizzato i caratteri letti dal file, con il secondo vettore, quello iniziale. In caso di successo, ci si limita a visualizzare un messaggio nel box di dialogo che vedete qua codificato. Poi, giusto per vedere come si può procedere a una scansione totale di tutti i byte, magari per elaborarli, per compiti specifici, ho provato a contare tutti i byte presenti nel file, in pratica la dimensione dell'immagine. Ho inizializzato un contatore a 8 caratteri, perché dobbiamo considerare anche quelli appena controllati del leader, e con un ciclo while, conto tutti i byte man mano che li leggo dal file. Qui, naturalmente, come potete immaginare, c'è bisogno di qualche spiegazione in più. Mentre leggendo da un file di testo, e volendolo elaborare tutto, il controllo da fare per esaurire il file è questo, ricordate, file dati e il file di testo, punto pic, è il metodo che va a controllare se c'è ancora un carattere in attesa di essere letto, in pratica se c'è ancora una riga. Per i file binari ci sarebbe anche il corrispondente pic char, che ho indicato qua nel commento. Ma per come è stato implementato internamente il metodo, andrebbe in crisi quando trova caratteri che sono al di fuori dell'intervallo ASCII. Per capire allora quando è finito un file binario, è meglio leggere i byte a blocchi. E quando il numero di byte effettivamente letti è zero, vuol dire che il file è terminato. Come prima, quando abbiamo letto solo otto caratteri, predispongo un buffer, però, eccolo qui, decisamente più grande. In questo modo le prestazioni risultano nettamente migliorate. E il ciclo while continua a richiedere, usando il già visto metodo read, blocchi di un K alla volta, in pratica. Quindi 1024 byte alla volta. E le memorizza, eventualmente anche di meno, nel vettore chiamato buffer. Il numero dei caratteri letti viene memorizzato nella variabile corrispondente. Contemporaneamente vado a confrontare il valore restituito con lo zero. Se è maggiore di zero, vuol dire che almeno un carattere è stato letto nel buffer. Altrimenti vuol dire che il file è terminato e il ciclo while pure deve terminare. Nel ciclo while, intanto si aggiunge al contatore il numero di caratteri letti. Poi, di nuovo anche per far vedere questa possibilità di accedere a una costante predefinita, confronto il valore di count con e qui c'è un errore perché inizialmente avevo tentato di leggere ho provato a leggere un byte alla volta quindi aveva senso fare il confronto con l'uguale. Se il valore del contatore diventa maggiore o uguale del più grande valore rappresentabile con un intero int.maxvalue allora significa che abbiamo raggiunto i limiti delle capacità del programma l'immagine è troppo grande per poter contare i suoi byte ovviamente il problema sarebbe stato se non proprio eliminato molto mitigando utilizzando come variabile per il conteggio un long. Terminato il ciclo visualizzo con la solita message box il valore del contatore ovviamente dopo averlo prima trasformato in stringa a seguire troviamo questo blocco catch che è del try più interno chiusura del blocco try più esterno e il suo blocco catch questo è più specifico perché il try più esterno era quello che andava a controllare l'apertura del file quindi se c'è qualche problema qua sicuramente è appunto dovuto ad un errore di apertura del file superato il blocco try e catch se il riferimento file binario non è null vuol dire che eravamo riusciti ad aprire il file e quindi lo possiamo chiudere diversamente no vediamolo in funzione alt f invio i importa ho copiato l'immagine qui è stata riconosciuta correttamente come un'immagine png e la dimensione è di 39758 byte quindi andiamo a